È interessante la proposta dell'onorevole Fassina, purtroppo l'ultimo comma dell'impegnato riguarda un argomento di cui forse l'onorevole non è al corrente, ma ieri c'è stata una riunione fra la sindaca e l'assessore, la questione è in discussione, si sta approfondendo in tutte le sue sfaccettature, quindi che la cosa rientri addirittura nel regolamento del Consiglio Comunale è quantomeno fuori contesto perché non riguarda un'attività precipua di una commissione capitolina e nello specifico è qualcosa di cui si sta trattando in questi giorni, quindi è fuori contesto e fuori tempo, quindi il voto è no. Grazie.